Presenterò un esposto alla magistratura come cooperativa Due Mari. Sono certo che le analisi che hanno condannato le nostre cozze non siano giuste e chiedo chiarezza. Queste le parole in un nuovo esposto a firma di Egidio Di Polito, portavoce dei mitilicoltori tarantini. Il documento sarà presentato nelle prossime ore alla procura di Taranto. Gli esiti delle ultime analisi sulle cozze hanno devastato il settore. Una tegola arrivata una ventina di giorni fa con il verbale definitivo e assolutamente esplicito del tavolo regionale, le cozze del primo seno vanno distrutte e la movimentazione autorizzata solo per il novellame fino al 28 febbraio di ogni anno, a meno che non prenda il via la bonifica. Il Comune si accinge quindi ad emettere l'ordinanza che conferisce all'Ami l'incarico di incenerire la produzione 2012 di cozze prevista per la prossima settimana, approvata d'altra parte la graduatoria dei mitilicoltori che hanno presentato istanza per trasferirsi in Mar Grande. Requisito indispensabile che gli allevatori abbiano le autorizzazioni necessarie, quattro soltanto quelli in regola. 12 hanno chiesto un'area in sanatoria e una in concessione e altre 12 aziende solo in sanatoria. In Mar Piccolo la cooperativa Due Mari ha chiesto la sanatoria perché ancora priva di autorizzazione per 28.538 metri quadrati e ne ha ottenuti soltanto 6.500 in Mar Grande se deciderà di spostarsi. Uno spazio decisamente inferiore rispetto agli impianti da sistemare. Di fatto però poco è cambiato rispetto a un anno fa quando i campionamenti condannarono le cozze del primo seno irrimediabilmente inquinato da PCB e diossine simili. Crescono dunque perplessità e rabbia tra i mitilicoltori e Dippolito. 12 mesi dopo ripresenta l'esposto alla magistratura e attende una conferma alle sue tesi sui nuovi risultati dell'ASL Tarantina. Nelle analisi scrive ci sarebbero singolari anomalie. Chiediamo quindi che l'operato dell'ASL sia accertato.